Allora siamo a Arquador, provo a dirlo tu? No, ho fatto una brutta figura! Senti Fiona, volevo chiederti una cosa, qui vediamo alle nostre spalle due tavole da surf, mi sapresti dire chi ha portato il surf qui in Brasile nel lontano più o meno 1960? Nome e cognome, cinque, quattro, tre, leali, sì, ecco, esattamente, sì sì, bravissimo! Hey, you're incredible, you know? Oh man, I'm just riding to it, you know, I think my future is about the video. You really are incredible, you're great! Abbiamo perso, però noi siamo divertiti e noi siamo venuti qua apposto per quello, ovviamente siamo avvelenati, ci è dispiaciuto e adesso ci ripariamo, va bene? Cerchiamo di trovare una coppia che veramente possiamo dominare alla grande. bravo! 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 ricordati che tu mi hai promesso, no, promesso no, però hai detto che avresti tentato in tutti i modi di farmi conoscere tu sei un bol! bel è durissimo, la vedo dura! eh lo vede durissimo anche io! puoi? 2 fiamme, un pass by 2 per tutto noi? e qui dovresti farli conoscere i bolz tutto noi? cosa dici? ok, ci prometti? questo è un pass per il momento Allora ridimensioniamo la nostra scommessa, se riesci a farci fare soltanto ciao Italian Team, io a disposizione tua per una settimana, quello che vuoi, va bene, ma decidiamo fare tutta la tua campagna. No, 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 una settimana, un mese. Ma si è piaciuta tutta l'estate. Lui è mi chiamare. Se vengo io viene anche lui. Perché senza Max io non vado da nessuna parte. E tu, e tebbina anche te, noi? Che ti dici? Te? Va bene, grazie. Grazie ragazzi. We went wrong. E mio, questo è...